Tututiro, tututiro, tutututiro, estrago la mia spada, guarda che bellina, nano di merda! Salve a tutti ragazzi e bentornati su Dungeons & Dragons in compagnia di me, Dark Griever, e c'è sempre Froxy, che anche lui modestamente sa qualcosa di questo gioco, no? Grande, sì, è un gioco praticamente con i draghi, ci sono i draghi. Se ne sta uno in tutto il gioco, però vabbè, qual è questo che stiamo giocando? Stiamo giocando a Tower of Doom. Oh che bello, oh che bello! Che bello, 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 bello. E dove uscì Froxy questo? Nel 1942. Sì, vabbè, dico dove, lascia stare l'anno. Ehm, è uscito su, nel, non ho capito la domanda, aspetta, nel senso. Va bene, va bene così, a posto. Come se avessi accettato, dai, a posto, la tua risposta. Non è successo nulla. Nei cabinati, cazzo, dove è uscito? Ah, basta, dì, cioè, ma che non... Basta, via, vabbè, che se no non finiamo più. Dai, ma non ti sai spiegare, veramente, non ho parole. Sì, sì, anche te capisci quello che capisci. Sì, ma lo sanno tutti che capisci. Sì, to! Oddio, sono il pallino numero due. Oh che bello, allora. Cosa piglierai il dwarf? Ho capito. Allora io ho l'elfa magica. Grande dwarf. Oh, è vero, così parti. Perisci il tuo nome. Mmm, carissimo, ma siamo... Siamo... Siamo, non so che nome metto, oddio. Siamo... Non trovo la S, oddio. Dai, va là. Corri, corri. In nome di un nostro amico, quasi. Complimenti. E vabbè. Oh, corre bene quando non c'è l'arma estratta. Oh, un libro. Oh, un altro libro. Cosa parla questo gioco, Froxy? Praticamente dobbiamo ammazzare tutti i sorci. E poi il gioco finisce. Ah, ho capito. Il gioco? Sì, abbastanza. Raccontato così è proprio bello. Proprio innovativo. No, no, no. Cioè, ma sinceramente non ho idea del gioco. Cioè, quindi narra. Ce lo narri. E intanto tu parla che io ti frego la cosa. Fanta, Irene, raccontaci una storia. Eh, che bello. Eh, è un gioco fantasy. C'è poco da di... Che cazzo al cazzo. Guarda che bello. È uno dei primi giochi dove puoi far... Poi c'è la classe. Che cacchio, non si può parlare. Ma io non premo nulla. Il primo, 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 bravo. Dobbiamo fare tutto il gameplay, primo. A posto, hai trovato una grotta col primo. A posto. Oh, che bello, le tracce portano alla grotta. Ma le tracce di cosa che non c'è un cazzo a terra? Oh, che bello, la lanterna. Il primo è leviosa. Sì, si accende la luce. Ho premuto per sbaglio il tasto A, l'ho tenuto premuto, è tipo ha fatto un cazzo. Corri. Oh, cazzo. Eh, l'ha rifatto, l'ha rifatto. Guarda. Ah, stai parando, bravo. Come cazzo fai? Non lo so. Un mustiolo delle fiamme. No, non rubarmi i soldi, io non rubo. Ah, il nome è bellissimo. Ah, che bel nome. Come? Vabbè, ogni tanto c'è le crisi. Il nome è bellissimo. La collana? No, sono Lupin. È mia, la collana. È mia. Sì, se ce la fai. Oh, cazzo, 800.000, Cristo. No, ma quelli erano punti esperienza. Eh, lo so, però è bello, sai. Cioè, ma ti immagini appena livella questo PG, è proprio un bel nome. Sì, sì. Ecco, ho lanciato una daga, hai visto che è bello? Non mi dico i segnali a fanculo. Guarda, guarda, incendio. Sì. Guarda, l'hai fre... Un teschio che brucia, va bene. Sciteta. Ah, non vedo l'ora che arrivino gli arcieri che ti mettono la freccia in testa. Ah, quella è divertente, cazzo. Attento, 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 ho visto che è uscito una roba brutta. Oh, ho un arco. Aspetta, aspetta, guarda, guarda, guarda. E io non vengo qua. Dai, va, corri, corri. Come lo tira male. Come lo tira. Non entra. Ma no, non ce la fa. Troppo bello. Oh, oh. Chi sarà mai? È ora di usare le magie. Aspetta, aspetta, lo ammazzo io a testare. Non lo ammazzo. Zot. Ah, no, cioè. Oddio, l'hai stunnato. Bravissimo, ti aiuto pure io. Invisibilità. Ciao. Anello magico. Oh, è Cristo. Anello, anello, anello. Non so che... Bravissimo, complimenti. Eh, sto facendo il tank. Fan baffanculo, continua. T'ammazzo! Ma non c'è qualcosa da aprir in queste casse di merda. No, devi morir. Eh, le frecce, l'ho prese pure io, non ti immaginavo. Sì. Non c'è un cazzo. Eh, ma dai. Daga. 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 Finito. Daga. Olio. Ma dove è il boss? A posto. Si fa i giri. Ho finito tutto. Beh, lì, quanti soldi. È mia, è mia, via. Va via. Mia, mia. Tu hai sconvitto il camp. Ma baffanculo, i gold. No. Ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravissimi. Complimenti a me. Che schifo quel nano. Ma che tu fai schifo, cioè? E hai calvato le merci della carovana. Che culo proprio. Che culo. Grandissimo. Uh, Shinobi ha livellato. GZ. Anche Toscano. Anche Toscano ha livellato. Oh yeah. Toscano il nano, mamma mia. Toscano il nano. Guarda che manona. Guarda, guarda. Mi scappolo. E gne. Gne. Dai, dai. Possiamo finirla qui, credo. Sì, possiamo finirla qui, credo. Finiamola qui. Gne gne gne. Mi scappolo. Bene, questo è lo shop. Ma siamo a posto. Ho capito, basta. Mi sto toccando. Bene, ragazzi. Anche questo video di questa serie. raggiunge al termine. Spero che vi sia piaciuto. Noi continueremo, credo. Error. Credo. Come error. Error. Ah, perché hai troppa cosa. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao, ragazzi. Wee, wee. Mie.